L'Istituto Tecnico Professionale Arezzo accresce il suo interesse nel settore dei trasporti e in particolare verso quello ferroviario. È una scelta che è maturata ormai da tempo, però intendete potenziare questo indirizzo? Sì, perché il terrestre, che sarebbe gomma e rotaia, quindi il ferroviario, ci vede protagonisti insieme a aziende come la Ferroviaria Italiana e le Ferrovie dello Stato. Volevo domandare a questo giovane per quale motivo è particolarmente interessato a questo indirizzo? Sono particolarmente interessato a questo indirizzo perché è una passione che ho da piccolino, diciamo da piccolino che sono appassionato di treni e sarebbe il mio sogno diventare macchinista soprattutto di alta velocità, di freccia rossa. Quindi non hai mai avuto dubbi su questa scelta? Dubbi da qua alle medie un pochino sì, perché questa scuola non la conoscevo, quindi ero indirizzato per andare al Sarrocchi a Siena, poi sfogliando su internet ho trovato questa scuola e ho visto che faceva questo indirizzo, quindi l'ho scelta subito. I nostri tecnici del trasporto e logistica sono i migliori tecnici che escono dalle superiori di Arezzo e noi siamo un istituto in cui nel passato abbiamo sempre curato questi aspetti delle eccellenze.